gioco a bowling un attivo tiro, sbaglia il ribalto di Ricchi grazie mille bene, manda il gatto, sbaglia questo, sbaglia Boruban, attacca 1-1 Kon Grezzi palla per Ricchi, farmo il tomino da 3 punti sbaglia da scena di Konesco il ribalto controllato da France il suo blocco di Lutz Scusi, lo stai riprendendo? Sì. Prendete questo, eh. Va bene, mi pare sofferto di questo. Va va su Martor. Ma i soliti perdenti, si vede la Treni di Spagna. Ma che arriva lungo sul secondo ferro. Diamo questa volta... ... la stoppata, giustata a fallosa di Morenchi. Ma che è una finale, toglie! Palla quindi ancora per i soliti perdenti. Non hanno fan via di Porenca dei prova colpi. Da non andare a di Caterina con il 4 uomo. Ma che possa stare molto bene con la scuola che spagna... sta a fare una distanza di spivito, no? Ti l'ho sentata perché tu... ... il tappo chiudo del campo, se a fare un'attivazione... ... il secondo si dice il pallo del parte di Oruban. Il secondo pallo del parte... ... il secondo pallo del parte.. ... il secondo pallo del parte... ... il quarto posto... ... al torno delle... ... Pordenti... Palla, sotto le gambe, il palisaglio di Moretti, idea di una, ma sono schifata, e Moricchi intanto trova ad attaccare il corrente, attaccare ancora sullo 0-0. Hai resistito fino adesso? Palla, non puoi fare la pinta, 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 non puoi fare la pinta. Non so se mai i poveri, super vento. Lui, prova a tagliare il sottomenestro a Tatole, in velecità, quello che ovviamente dovrebbe fare quando si trova di quanto un giocatore di torno e paragoni sulle banca, fa saltare molto bene il palco. Prima Boruto ha trovato il Bambi Rai, che era una cosa che si guarda sempre, normalmente, infatti, oltre il Bambi Rai, e non puoi fare la pinta, non puoi fare la pinta, non puoi fare il retrievestito.